La Sardegna è la regione leader in Italia per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. A dirlo Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Plastica, che nel corso dell'Assemblea del Consorzio ha reso noti i dati nazionali relativi alle quantità di imballaggi in plastica avviati al riciclo nel 2021. I risultati mostrano una generale performance positiva in tutta Italia. La raccolta conferita ai centri di selezione è aumentata rispetto al 2020 di 3 punti percentuali, con un nuovo record nazionale in termini di quantità pro capite media annua che ha raggiunto i 24,9 kg. A guidare la classifica c'è la Sardegna, con 34 kg a testa, seguita dall'Umbria, con 32 kg per abitante. Risultati brillanti ancora più alla luce delle recenti difficoltà di approvvigionamento nella filiera delle materie plastiche e del caro materie prime e energia. Altro elemento positivo è che i dati di raccolta delle singole regioni si stanno sempre più avvicinando al dato medio nazionale, superando gli enormi divari nord-sud che sino a qualche anno fa caratterizzavano la situazione italiana. Il servizio di raccolta e riciclo è ormai diffuso nel 96% dei comuni italiani, con il coinvolgimento del 98% dei cittadini. Gli italiani, dichiara il presidente Coreple, a Giorgio Quagliolo, stanno mettendo un impegno notevole per differenziare i rifiuti in modo corretto. La strada è quella giusta, ora però è necessario uno sforzo ulteriore da parte di tutti per mantenere l'eccellenza che abbiamo raggiunto in termini di percentuale di raccolta differenziata dell'imballaggio in plastica e di avvio a riciclo.